Con le vacanze pasquali parte ufficialmente la stagione turistica estiva, tante le persone in giro, strade trafficate e sono tornate anche le targhe straniere. Si scelgono i laghi, le montagne per una passeggiata, un gelato o un pranzo all'aria aperta. Ci troviamo a Stresa sul Lungolago per ascoltare le voci di vacanzieri ed esercenti. Dove viene? Sono avito a Milano da 14 anni ma sono di Madrid. Come mai qui sul lago? Perché oggi fa una giornata bellissima e bisognava sfrutarla. Cosa vi piace di più di questo territorio? Guarda, è la prima volta che vengo dopo 14 anni e tutto quello che ho visto fino adesso è fantastico, quindi consiglio di venire. Da dove venite? Agrigendo. Come mai sul nostro lago? Ci piace. Quanti giorni vi fermate? No, in giornata andiamo via. Veniamo di Germania. Da Francia, da Annecy. Quanti giorni vi fermate? Quattro giorni, fino a lunedì. Come mai qui sul lago? È magnifico, c'è la famiglia di qua e faccio scoprire la signorina che venga di Francia. Where are you from? Brazil, Fortaleza, nord-est. Sicuramente è una stagione promettente, nel senso che ci sono già un sacco di prenotazioni e ci aspettiamo una bellissima stagione, piena di turisti. È pieno zeppo, stress. C'è un casino di turisti, Milano, Milano sta stress. Tanti anche gli stranieri? Un casino, tutti stranieri. Svizzeri, tedeschi, svizzeri. Abbiamo delle buonissime previsioni, speriamo in un successo, dati questi due o tre anni di pandemia e siamo molto positivi. Abbiamo un bel flusso sia di italiani che di stranieri, tra i quali tedeschi, francesi, inglesi, fortunatamente per il momento. Quindi una forte affluenza durante queste vacanze pasquali anche? Sì, ci dovrebbe essere una grande affluenza, soprattutto di stranieri, speriamo in bene.